Per Bim Bim Bici i commercianti si sono attivati, alla Gianna abbiamo avuto piccole borsettine naturalmente dedicate così ai giovani ciclisti, voi addirittura cocomero. Prima i spiadini di frutta e poi il cocomero, ormai è la nostra tradizione perché si faceva la cocomerata e stasera abbiamo fatto il misto. Bene questo è naturalmente l'appuntamento intanto con il cocomero, con i commercianti, ma adesso andiamo a vedere questi nostri giovani sportivi, il sindaco è a piedi ve lo dico subito, però il suo carburante è molto speciale perché è quello di un cocomero, quindi va acqua, costa poco, attenzione, andiamo a vedere se è arrivato, se è arrivato. Numero 4 è Stefanella, ma come fai? La vita della Stefanella siete in diretto! La vita della Stefanella Dopo la cocomerata abbiamo raggiunto il sindaco, dove tutti naturalmente si sono radunati, ultimi momenti le lanterne volano su, ma soprattutto un subiano vissuto dai bambini e dalle famiglie, sindaco. Sì, allora la carne è debole, il cocomero è cocomero, le serate d'estate che stasera anche oggi era il tempo un po' brutto, però si sta benissimo e meno male che a me non può, questi bambini sono divertiti, sì, le lanterne le stanno preparando, ragazzi piace, è una bella cosa, bella cosa. Soprattutto è una bella cosa avervi fatto girare proprio per il paese, aver visto due commercianti che si sono attivati, grazie sempre come sempre i commercianti, perché qualunque iniziativa si porta qui in paese, nel comune, loro sono sempre pronti a farsi vedere, a donare le loro merci, le loro mercantie per noi, per tutti quanti, che è una cosa bella, grazie sempre a loro. E poi un'associazione sportiva come le MTB Race che si attiva per i bambini? Sì, oltretutto ha fatto una bellissima manifestazione, tempo addietro, dove è stata veramente bella e organizzata anche secondo me molto molto bene e poi come sempre io sostenuto e sosterrò sempre finché avrò fiato, portiamo bambini, portiamo bambini, portiamo bambini, perché grazie a bambini, genitori e loro, lo sport è bello insomma, sicuramente. MTB Race, qui abbiamo Stefano Lavorca, abbiamo Francesco Paciarelli, Presidente, fai sentire, fai sentire, fai sentire, allora, sono già partiti tutti, allora tanti bambini, tante famiglie in questo percorso subbianese, no? È una serata piacevolissima, che ci piace organizzare per i nostri bambini di Subbiano e anche chiaramente di Capolona, vedo che è una serata sempre partecipata da numerose famiglie, finalmente le famiglie che si appropriano del centro storico, del paese, è una cosa veramente che mi fa felice, che mi fa felice. Senti, ho visto che hai coinvolto anche i commercianti, quindi si lasciano coinvolgere ben volentieri. Per queste iniziative si prodigano proprio per darci una mano e questa è una cosa veramente che ci fa veramente contenti anche per questa cosa qua. Ti faccio proprio una domanda così, spesse volte non è che si chiedono grandissime cose, grandissime manifestazioni, si chiedono piccole cose per poter partecipare, diventare, come si dice oggi, soggetti attivi. Ah, esatto, guarda, anche i contributi che ci vengono dati sono tutte proprio cose in natura offerte dai commercianti. Non hai trovato tutto questo caffè, perché io da tutte le manifestazioni in baciarelli offro caffè, o lo fai per tenerci svegli, oppure, no, non lo so. No, il caffè, il caffè rendo attivo, no, poi no, no. La verità, lui Stefano, perché c'è tutto questo caffè? No, poi sono tutti caffè particolari, non è che ha scelto un caffè a ginseng, guaranà, tutta roba eccitante, quindi. Ma allora perché voi vi eccitate quando andate in bicicletta? No, tu ne hai bisogno, sei moscio, com'è? No, no, io ho bisogno di adrenalina forte, perché qui, ragazzi, c'è molta competitività, quindi ci diventiamo molto. Tu invece vai in bicicletta o no? Vado in bicicletta, ma arrivo sempre ultimo. E anche col caffè? No, il caffè non basta, lì servirebbero bombe. No, ma adesso lui c'è la Red Bull, eh? Eh sì, ha ragione. Lui piace anche la Red Bull. Bene, allora questa è naturalmente l'atmosfera che si vive in una serata dedicata a Subbiano, in cielo ci sono mille stelle, l'hanno così dipinto, dobbiamo dire, proprio i bambini, con queste lanterne. Subbiano è così, semplice, schietto, con la voglia però di vivere insieme queste notti che sono calde, bellissime, ma soprattutto hanno voglia di sorrisi. Grazie. Grazie. Grazie.